Allenatore, eravamo al trentunesimo minuto, Fiorentini in svantaggio, entra Olivera, gli Alici se la prende con Devio Rossi che però ha una reazione veramente spropositata, arriva a colpire anche probabilmente il suo giovane giocatore Gianluca era una situazione di espulsione? Assolutamente sì, il quarto uomo doveva controllare l'arbitro pure, infatti guardano tutti quanti forse dimenticano che se un giocatore colpisce un proprio compagno è passibile o un allenatore è passibile E' la dirigenza che poi apprende telefonicamente di quanto è successo chiaramente, da chi a casa l'ha visto in tv Non è che...